Musica Gentili telespettatori, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Video 33. L'apertura dedicata purtroppo alla cronaca nera ha avuto un esito tragico. L'escursione è compiuta da un bolzanino nei boschi della Val Sarentino. Roberto Cristofolini, di 62 anni, era uscito di casa ieri pomeriggio per andare alla ricerca di funghi. Aveva scelto la zona sovrastante l'abitato di Sarentino, posteggiando la sua auto, una BMW ai margini del bosco. In serata, non vedendolo rientrare a casa, i familiari avevano lanciato all'allarme alle 22. Una settantina di uomini tra vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza e forestale hanno battuto la zona con i cani da ricerca. Le ricerche sono state sospese verso le 2 e sono riprese stamani all'alba. Verso le 6.30 il corpo senza vita di Roberto Cristofolini è stato rinvenuto parzialmente immerso nelle acque di un torrente in località Pozza di Sarentino. Con tutta probabilità il 62enne è scivolato dopo aver perso l'equilibrio, precipitando per una quindicina di metri. La salma è stata recuperata dall'elicottero Pelican del 118 e trasportata alla cappella mortuaria del distretto sanitario di Sarentino. Cambiamo argomento, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione la legge regionale approvata poco meno di un mese fa e che concerne il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. E nero su bianco ora sono scritte le cifre che dovranno o dovrebbero essere restituite dai politici. Il risparmio complessivo per l'ente pubblico e dunque per il contribuente sarà decisamente inferiore a quello ipotizzato in prima battuta. Si era parlato di 45 milioni di euro, alla fine non saranno più di 29, ma per 55 tra ex ed attuali consiglieri regionali altoatesini sono in arrivo notizie non certo buone, perché sul bollettino della Regione compaiono nel dettaglio tutti i numeri che sono conseguenza dell'applicazione della legge. Cifre che si riferiscono in particolare a quanto gli interessati dovranno o dovrebbero restituire. Gli importi stanno per essere loro comunicati per mezzo di lettere raccomandate. Legge alla mano si prevede per esempio che l'ex assessore provinciale Sabina Caslatter-Mur restituisca l'intero importo incassato tra liquidazione e somma accantonata nel famoso Family Fonds per un totale di 1.425.000 euro. Mauro Minniti, secondo nella specifica graduatoria, dovrebbe mettere mano a portafogli per un importo pari a 1.332.000 euro. Sul gradino più basso del podio Hans-Peter Munter con 1.317.000 euro. Fanno parte della lista di coloro i quali sono chiamati a restituire tutto. Un'altra lista comprende invece gli ex consiglieri che dovrebbero restituire una parte di quanto incassato tra liquidazione e Family Fonds. In questo caso il più penalizzato sarebbe l'ex assessore provinciale Werner Frick, costretto a restituire 417.000 euro. L'ex leader del centrodestra italiano Giorgio Olzmann segue con 345.000 euro e l'ex presidente del Consiglio regionale SVP Oscar Peterlini è terzo con 338.000 euro. Ora aspetterà ad ognuno di essi far valere l'opzione relativa all'applicazione dell'attuale o della vecchia legge con penalizzazioni di varia misura. Nel caso in cui venisse scelta l'applicazione della vecchia legge, per esempio, l'assegno vitalizio verrà decurtato del 20%. La comunicazione dovrà essere fatta entro 60 giorni alla presidenza del Consiglio regionale, ma da adesso in poi si susseguiranno i ricorsi. E c'è da scommetterci, l'iter per l'applicazione della nuova legge sarà assai tortuoso. Torniamo alla cronaca, sono gravi all'ospedale di Bolzano le condizioni di un bolzanino rimasto ferito oggi verso le 11 durante un'escursione sul sentiero che dal virgolo conduce al colle. L'uomo ha imboccato una scorciatoia nel bosco, sovrastante il rione di Aslago, ed è caduto per alcuni metri riportando serie lesioni al bacino. È stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino che lo hanno trasportato fino alla strada più vicina dove è poi stato prelevato da un'ambulanza. Voltiamo pagina e in arrivo anche a Bolzano gli speed check, i famosi totem colorati all'interno dei quali possono essere collocati autovelox. La legittimità del loro utilizzo è tuttora oggetto di polemiche. Qualche mese fa lo stesso ministro dei trasporti Maurizio Lupi aveva stroncato gli speed check in quanto difficilmente inquadrabili in qualcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente codice della strada. In Trentino la loro presenza è già piuttosto massiccia, in Alto Adige i casi di amministrazioni comunali che li hanno montati sono invece più rari ma destinati a crescere. La giunta comunale di Bolzano ha infatti deciso di installarne alcuni a titolo sperimentale per tre mesi, operazione a costo zero in quanto i totem verranno forniti gratuitamente dalla ditta produttrice almeno per i tre mesi in oggetto. Si pensa di collocarli su tre strade dove di frequente si registra una certa qual predisposizione alla velocità da parte di chi si trova alla guida di veicoli. Nello specifico in via Galilei siamo in zona industriale, in via Cadorna strada ad alto tasso di necessità di tutela vista la presenza di parecchie scuole e in via Druso lungo la quale nei momenti di scarso traffico c'è chi è stato bloccato mentre viaggiava a 90 km all'ora. Serviranno anzitutto da deterrente, poi nel caso in cui contengano effettivamente autovelox potranno essere utilizzati per elevare multe ma solo in presenza di una pattuglia delle forze dell'ordine. In Alto Adige il primo comune ad acquistarli è stato quello di Nova Levante, il paese attraversato dalla strada che porta al passo Costa Lunga e i pericoli derivanti dall'alta velocità di moto e auto sono assai elevati. Una colonna così è come in Poliziotto. Praticamente la polizia locale arriva, installa il dispositivo radar, il dispositivo di rilevazione della velocità e se ne va, fa un altro lavoro, magari controlla su un'altra strada vicina o un parcheggio, fa un'altra cosa dopo un'ora o due ore, ritorna, rileva il dispositivo e li controlla e vede come praticamente un posto fisso di rilevazione dove ci sono proprio i poliziotti veri. L'installazione di Totem a Nova Levante a quanto pare ha dato esiti positivi. Il primo bilancio è positivo, naturalmente non abbiamo nessun studio per iscritto, rilevazioni tecnologiche e così, ma abbiamo praticamente i riscontri della popolazione che abita lungo la strada. Sentiamo le moto che rallentano, perciò l'effetto c'è. Abbiamo il riscontro della popolazione che ci abita vicino, ma anche degli automobilisti che trovano molto più sicurezza per la strada. Avvio tutto in salita a quanto pare per i bus a idrogeno della Sasa che circolano a Bolzano dalla fine del 2013, dalla loro entrata in attività, hanno accusato diversi problemi a più riprese. L'ultimo della serie si è verificato ieri sera verso le 19, un pullman è rimasto bloccato alla fermata di Via Buozzi, non lontano dalla Fiera. È stato necessario un intervento dell'assistenza. Già a fine giugno un mezzo a idrogeno della Sasa, sempre alla medesima fermata, era stato costretto a interrompere la corsa. In quel caso però si era trattato semplicemente dell'accensione di una spia d'allarme e il bus era stato fermato solo in via precauzionale. Stavolta, come dimostrano le foto, è dovuta intervenire invece l'auto dell'assistenza. In momenti di apprensione, rimaniamo a Bolzano. Ieri verso le 21 in via Cagliari, in un condominio, per una fuga di gas, l'allarme è scattato al civico numero 10, dove si sono immediatamente portati i vigili del fuoco, che in breve hanno accertato che si trattava di una valvola lasciata aperta. L'intervento si è risolto in una decina di minuti, dopodiché la situazione è tornata alla normalità. Da ieri il reparto di oncologia medica dell'ospedale di Bolzano ha una nuova sala d'attesa, ribattezzata Sala della Musica o Sala del Coraggio. È stata dedicata a una giovane violinista morta di tumore. Carlotta Nobile era una violinista e blogger di grande talento. A soli 21 anni fu nominata direttore artistico dell'orchestra da camera di Santa Sofia a Benevento. Un tumore l'ha stroncata nel luglio scorso, ma la sua battaglia e il suo modo di lottare hanno lasciato un segno all'ospedale di Bolzano. Segno così forte che il reparto di oncologia medica ha deciso di dedicarle la sala d'attesa. Carlotta Nobile è stata una violinista che è morta a 24 anni di tumore, che ha vissuto la sua malattia in un modo straordinario lasciando delle testimonianze bellissime che noi abbiamo letto assieme con i nostri ammalati, con i nostri volontari, tra noi medici e infermieri, nelle quali ci siamo a tal punto riconosciuti da averne voluto fare una presenza costante. Quindi Carlotta da oggi sarà sempre con noi, le sue frasi, le sue parole che voi trovate in ingresso dell'ex sala d'attesa. Carlotta è con noi da oggi per sempre, è una presenza del reparto, ci siamo riconosciuti in tutti i suoi pensieri e crediamo che rappresenti il modo migliore di vivere la malattia. Le sale d'attesa degli ospedali sono percepite spesso come luoghi del silenzio, del disagio, dell'ansia. Al reparto di oncologia medica del San Maurizio hanno deciso che proprio grazie a Carlotta Nobile questo concetto doveva cambiare. Per questo la sala d'attesa è stata ribattezzata Sala della Musica. A dirla tutta ai pazienti, dopo il concerto inaugurale di ieri, che ha visto protagonisti il violinista Rodolfo Bonucci e il pianista Corrado Greco, ossia i donatori di musica, si diceva i pazienti, hanno rinominato la sala in Sala del Coraggio. In questo locale si terranno altri concerti perché il valore della musica per chi soffre è inestimabile. Il valore della musica in un'esperienza come la nostra è quello di... sono molti i valori. Uno è quello di sancire la centralità della relazione fra le persone perché la musica significa condivisione di quelle emozioni che sono date proprio dal linguaggio universale della musica, dall'ascolto comune della musica. Poi la musica è anche un modo di portare serenità e bellezza all'interno dell'esperienza di malattia e nei luoghi della cura. I musicisti rappresentano quella parte nobile della società civile che condivide con il personale sanitario il dovere e la disponibilità di curare chi ha bisogno. Porte aperte martedì 12 agosto al planetarium di San Valentino in campo, in Valdega, in concomitanza con il periodo in cui sono più visibili i frammenti della cometa Swift-Tuttle. La struttura offrirà proiezioni speciali dalle 17.45 e fino a sera inoltrata. Durante lo spettacolo si potrà conoscere l'origine delle stelle cadenti, il loro legame con le comete e i miti legati all'eroe greco Perseo. L'osservatorio Max Valir sarà poi aperto alla cittadinanza dalle 21 per l'osservazione del cielo notturno. Nel paese di San Valentino in campo si terrà per l'occasione anche una degustazione di vini e una sfilata di moda. Cambiamo argomento, inaugurazione ufficiale ieri ai giardini di Castel Trautmannstorff a Merano per una nuova interessante serra. La serra si è resa in qualche modo necessaria a seguito del restyling della parte sottostante il castello di Trautmannstorff a Merano. Vogliamo sempre proporre qualcosa di nuovo e anche unico. In questo caso, già prima della costruzione di Trautmannstorff, sotto il castello c'era una parte di una vecchia orangeria. Lì avevamo poi creato una piccola serra e il caffè delle palme. Ieri sera il taglio del nastro alla presenza dell'assessore provinciale Arnold Schuller, il quale ha ricordato come con oltre 400.000 visitatori in soli 229 giorni di apertura a stagione, i giardini rappresentino la meta turistica più amata dell'Alto Adige e si colloquino tra le 10 location al top nell'arco alpino con un fatturato turistico diretto di circa 40 milioni di euro all'anno. La progettazione e ideazione della nuova serra è stata frutto di un concorso internazionale. Con un concorso internazionale a livello europeo al quale hanno partecipato 68 partecipanti. Alla fine ha vinto l'architetto Cuen di Brunico che ha sviluppato questo progetto in modo molto buono. La difficoltà maggiore era quella di trovare la collocazione giusta in questa area che non era del tutto regolare però lui si è riuscito a fare un bel lavoro. Nella nuova serra è alloggiato un terrario con piccoli animali e insetti provenienti da tutto il mondo. La grande attrattiva del terrario è rappresentata dalla colonia di formiche oricoltrici ospitate in una vetrina su misura che offre una visione completa dei diversi momenti di vita quotidiana di questi laboriosi insetti. Ma nella serra sono state ovviamente collocate anche numerose piante. Qua dentro abbiamo delle piante, sono delle piante utili che provengono dalle parti del mondo dove abbiamo del clima più caldo. Cioè sono delle piante esotiche, delle piante tropicali. Non abbiamo soltanto dei frutti tropicali qua ma anche delle altre piante. Per esempio le spezie come la vaniglia, la cannella, il pepe. Oppure abbiamo anche delle piante dalle quali le foglie e i fiori si ricavano delle essenze profumate. Per esempio il lang il lang oppure il paciuli. Sempre molto suggestiva la cornice di Castel Trautmannstorfa a Merano. È arrivato il momento di fermarci per qualche istante. Un breve break tra poco alla pagina dello Sport. Miss Italia. Chiusa la bella. La bella chiusa. La selezione regionale di Miss Italia presso il Parco dei Cappuccini a Chiusa. Sabato 19 luglio e sabato 9 agosto. Tutte le informazioni su www.clausen.it Sanfter. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Sanfter. Qualità e gusto. Sanfter. Saper fare, saper vivere. C'è l'alto Adige dal 1857. Calcio in primo piano, nuova operazione di mercato per l'FC Alto Adige. Nelle ultime ore è stato perfezionato l'ingaggio di Luca Bertoni, 22enne centrocampista milanese che si è legato al club bianco-rosso, nel quale aveva già militato nella stagione 2012-2013 con un contratto triennale, ovvero fino al 30 giugno del 2017. E per il ciclismo, grande spettacolo nelle fine settimana scorsa, con ben due gare di mountain bike organizzate a San Lorenzo di Sebato in Valpusteria. Le gare in un solo giorno non sono facili da organizzare, ne sanno qualcosa l'associazione sportiva di San Lorenzo di Sebato capace di riuscire nell'impresa domenica scorsa. Con un trofeo giovanile è la Sweet World Cup, corsi a distanza di poche ore l'uno dall'altro sul medesimo percorso. La gara giovanile rappresenta ormai una tradizione, la prima edizione venne infatti organizzata nel 1997 e ovviamente al di là dell'aspetto agonistico funge da strumento di promozione della disciplina tra i bambini e i ragazzini. 115 in tutto gli iscritti. Nella classifica squadra si è imposto il Sunshine Racers di Nalles davanti al team ospitante di San Lorenzo, terzo il team Green Valley. Grande interesse ha destato negli spettatori la sesta tappa della Sweet World Cup per la categoria Elite. Dopo le gare di Collepietra, Naturno, Corces e della Val Gardena è toccato alla località pusterese ospitare il circuito che si articola, lo ricordiamo, in nove tappe complessive. Tra gli uomini per la cronaca la vittoria è andata a Matteo Olivotto, tra le donne successo per Greta Palhuber e successo anche per gli organizzatori dell'associazione sportiva di San Lorenzo che vantano un nutrito vivaio di giovani mountain bikers, ma non solo. Sì, abbiamo tanti sportivi, proprio sportivi giovani, bambini che fanno il mountain bike e abbiamo anche avuto, abbiamo anche, è cresciuto un grande campione qua da noi, Gerhard Cashbauer e adesso nel tetto, sul tetto del mondo, praticamente il campione del mondo dell'Anda 23. Poi abbiamo avuto la Jule Inhofer, abbiamo avuto le due Rammsteiner e siamo molto contenti che abbiamo, anche adesso, al momento abbiamo una squadra fortissima di giovani ma siamo una squadra di paese e quando arrivano l'Anda 23, così loro devono andare da un'altra parte per fare i professionisti. Noi siamo solo capaci a seguire i giovani. Sarà ancora la variabilità per adobinare nelle previsioni meteo del fine settimana ma vediamola nel dettaglio. La webcam che vedete è quella di Appiano sulla strada del vino. Questa mattina sui settori settentrionali era variabilmente nuvoloso mentre sulle parti meridionali della provincia splendeva il sole. Nel pomeriggio il sole si alternerà alle nubi e verso sera la probabilità di rovesce temporale aumenterà progressivamente. Nella notte saranno inizialmente ancora presenti i nubi residue e ci saranno le ultime precipitazioni. In seguito si passerà cielo sereno, solo poco nuboloso. Venerdì mattina splenderà il sole, i cieli saranno tersi, solo localmente saranno presenti alcuni banchi di nebbia o nebbia alta e entro mezzogiorno inizieranno inoltre a formarsi i primi cumuli. Nel pomeriggio il sole si alternerà i cumuli, più tardi questi potranno causare alcuni acquazzoni temporaleschi che tuttavia si manterranno solo locali. Nelle valli in giornata soffieranno deboli brezze di valle, in montagna i venti saranno generalmente deboli e proverranno da sud ovest. Domani venerdì il sole sorgerà alle 6 e 3 minuti e tramonterà alle 20 e 35. La luna sarà piuttosto tonda e sarà visibile dalla sera a notte inoltrata. La prossima luna piena sarà il 10 agosto. Prima della sigla di chiusura c'è il tempo per ricordarvi l'indirizzo del nostro sito internet lo vedete in sovraimpressione, notizie aggiornate online anche al sito www.goinfo.it L'informazione su video 33 torna questa sera alle 19 con il telegiornale. Grazie dell'attenzione e rimanete con noi. Grazie a tutti. Grazie.